Ragazzi stiamo commentando questa cosa il giorno dopo che abbiamo registrato il video Perché abbiamo trovato anche il baule su Pro Magico Ma che fortuna, cioè allora tu sei una cosa incredibile, perché tutta questa fortuna? Cioè non è possibile E ragazzi come va? Io sono Ferinichi E io sono Steph e questo è Giulio che è McClash Royale E ovviamente oggi è una giornata importantissima perché come avrete già notato abbiamo il nostro primo baule magico da aprire Che bello! Come potete vedere siamo anche arrivati all'Arena 2, siamo anche diventati di livello 3 E oltre a questo baule magico abbiamo da aprire un silver chest e due baule omaggio Giusto per avere anche qualche altra cosettina che magari un po' di brivido, magari si trova una epica anche lì, io la chiamo Partiamo così, apriamo tutte queste cosettine Poi vi facciamo vedere un po' un resoconto di quello che è successo in questi giorni Mentre abbiamo giocato per salire un pochettino Dopodiché proviamo a salire un altro posto Sfruttando la bellissima epica che troveremo nel nostro baule omaggio Che sarà Prince Prince, voglio il Prince assolutamente Quindi dovete farmelo trovare su 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 Allora iniziamo da quelle più brutte, ok? Allora niente Niente Forcia, forcia, forcia Ok Ok Carte normali, perfetto Mi sa proprio di no, ok Una bella schifezza Eh sì Guarda un bellissimo cavaliere Un bellissimo cavaliere che scommetto che ne volevi così tanti Dai, dai, la più importante Su, su, su Che non sto nella pelle 154 di oro Che mica male Due bombaroli non ci interessavano Quattro arcieri, ok Cappanna goblin che sinceramente non voglio utilizzare La valchiria mi piace ma livelli bassi e scarsa Goblin lanceri tantissimi che sinceramente fanno un sacco comodo Sì Tre moschettiere che a me piace un sacco Esatto Anche a me piace un sacco Vai Prince, 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 Prince Ok Allora la strega non è male Però secondo me a livelli bassi non è poi così forte Quindi bisognerebbe puntare a potenziarla almeno al 2 o al 3 Il pecca si può potenziare Eh, assolutamente Mini pecca Ricordati che si chiama Mini pecca Moschettiere Dato che tutti si lamentano che anche se è una femmina Dobbiamo chiamare come un maschio E la portiamo a livello 2 anche lei o lui Dipende dai punti di vista E secondo me può bastare così per ora Voglio conservare l'oro Per quando decideremo diciamo un po' il primo decchettino Da portare avanti per un po' Andiamo, vediamo chi ci capita oggi Niente giapponese, grazie Ok, ok Che strana l'arena 2 Non mi ricordavo neanche più come fosse perché non la vedevo da una vita Che strano Allora, fai la prima mossa? No? No? Sì Sì La valchiria che ha trovato pure lui Ok Io alla valchiria risponderei con un bel pecca Mini pecca Oh, non ti entra in testa, eh Non ce la posso fare Ok, li abbiamo distrutto la valchiria Distruggiamo facilmente anche questo Dopodiché Guarda i mini pecca e danni che fa comunque Oh, 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 oh Ragazzi qua li facciamo male Qua li facciamo malissimo Ha sprecato tutto l'elisir E stiamo andando dritti Vai mini pecca Spacca tutto Vai, torna andata Il mini pecca picchia come non so che cosa No, dici Cioè, ce l'abbiamo solo a livello 2 Guarda i danni Sbom Sbom Fantastico Ma abbiamo già finito? Credo di sì Teniamo una fireball pronta per la prossima carta che mette? Mi sa che non ne mette neanche Ok Ho capito Ho capito Vabbè, vabbè Grazie Benissimo Sì, ha sbagliato l'attacco iniziale Decisamente ha sprecato Ma più che sbagliato L'abbiamo proprio deletato Perché lui parte Valkyria Mangiata viva Gigante Mangiato vivo Mette nel moschettiere Mangiato vivo Ma perché poi hai notato che ha iniziato un po' a entrare nel panico Ha iniziato a buttare carte Quindi buttare l'isir Ed è per questo che ha perso Vabbè, così ci mettiamo questo ad aprirsi Ad aprire giustamente Mancano solo 9 minuti al baule della corona Mi sta facendo arrabbiare tantissimo questa cosa Io credo che adesso ce ne giochiamo un'altra E poi ne andiamo a fare merenda E aspettiamo che ci sia Perché voglio fare anche quello Perché lì si trova fisso roba bella Sì, sì, lo voglio aprire assolutamente pure io È un puttiferio con che cavolo di scheletrini Sì, con quella toma Uh, però il draghetto si mangia vive quelli Vai pecca Corri pecca Corri pecca No, non lo dà No, non ce la fa Peccato di pochissimo però Però Jay, il draghetto riesce No, 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 facciamo bei danni Facciamo bei danni Allora, sinceramente Il draghetto con dietro gli arcieri fa un bel po' di danni Ok Ah, ok, cioè ci siamo fatti la torre Sì, sì, assolutamente sì Questo è stato un po' uno spreco Però ormai è andato Ecco, mi fa passare la voglia di fare questi sprechi gigante Grazie Opla Ok E con i goblin Lo dovresti mangiare vivo totalmente Sì, 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 sì Tutto a posto Tutto a posto Poi li mettiamo No, mi sa che questo lo facciamo andare così Per la sua via, capito? Da solo Sì, sì, sì Attento che l'ha messo anche lui il gigante Fai attenzione Ok, mettiamo il mini pecca E addio gigante Shbim 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 Vorrei essere un mini pecca nella vita Vero? Anche io lo penso sempre Metti felicità quando dà quei colpi Quando dà quella taracca così Capisci che nella vita avresti soltanto fare quello Esatto Cosa vuoi fare nella vita? Il mini pecca Veramente ci accontentiamo così Cioè, non rischiamo Tanto non abbiamo neanche il baule della corona Ancora pronto Quindi non ce ne frega nulla di vincere con tre L'importante è la vincere Esatto, esatto E siamo a due vittorie su due Benissimo, benissimo Oggi stiamo andando bene Lì, so come siamo in forma Sì, sì, sì E poi in salarci sette di ora a vittoria Ci siamo svegliati i frizzantini Stamattina in forma E basta Mo ti metto mai per la recensione Così impari a chiedercelo ogni volta Finalmente il baule della corona è pronto Non vedo l'ora di finirlo Già Però ce l'avamo dimenticati Una cosa molto molto più importante Che in effetti Nei commenti ci avevano chiesto tutti Guardate qua in alto Guardate poi che carina È l'icconcina che ho scelto Ovviamente un cuoricino Perché noi mettiamo sempre cuoricini Quindi è bellissimo Abbiamo creato il nostro clan Finalmente è ufficiale Ci sono 48 posti liberi Abbiamo deciso di mettere I trofei necessari a 2000 Perché? Perché purtroppo 50 persone sono le massime Che si possono avere in un clan E non vogliamo fare Che i 48 più veloci Entrano nel clan Quindi abbiamo deciso di Diciamo Ricompensare Quelli che giocano meglio Non lo so Non saprei neanche come dirla Quelli che giocano di più Che si impegnano di più Anche perché A trofei molto bassi Tipo nel vecchio clan Che avevamo Che l'avevamo fatto Capitava spesso Che certe persone Entravano Giocavano due o tre partite E poi non giocavano più Quindi alla fine Non ha troppo senso Secondo me rimanere Se poi non si dona Anche perché Contando che questa serie Sarà proprio focalizzata Sul non gemmare Sarà importantissimo Ricevere il vostro aiuto Con le donazioni Che non ho capito Perché donazioni Me l'ha censurato Cioè guarda qua Perché mi ha censurato donazioni? Hai detto una parolaccia Ma che c'entra? Vabbè Non iniziamo E' di brutto auspicio Ora che c'è il baule Della corona Non ne vogliamo vedere Giapponesi Allora Fai la prima mossa Esatto Così iniziamo a capire Che tipo di deck Potrebbe avere Ok Ok Per ora è sobrio Strega a livello 1 Mi sembra normalissimo Ok Ok Gigante a livello 3 Inizia ad essere un po' Più cattivo No va bene Va bene Sì 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 Tranquilla Tranquilla Mettiamo i goblettini Così intorno Che si ammazzano subito La witch Ok bellissimo Attacco Ecco qua Pure il prince Amico Quante ne hai Dicelo subito Così ci togliamo il dente Però Attenzione Allora abbiamo Counterato benissimo Il suo attacco Guarda il prince Non è riuscito a fare nulla E' stato proprio sprecato E' finito Guarda Vai Oh che bello Andata 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 E' rimasto da solo a picchiare La valkyria Quindi benissimo Allora Concentrati Concentrati Io direi di mettere Un bel draghettino Come pensavo Lui adesso fa così Mettiamo il pecca La witch penserà Al draghetto I goblettini Si ammazzano Alla witch Quindi stendiamo tutto Ok 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 Guarda quel pecca Si fanno praticamente fuori Anche il mini pecca Quindi benissimo Bene Guarda 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 Fireball Boom Mi dispiace Mi dispiace Mi dispiace Questo attacco Ci è andato davvero bene Adesso ti facciamo Un bel po' di male Un bel po' di male Non picchiare nel moschettiere Ti prego Povero moschettiere Ce la fa a finire Secondo te O no? No Guarda Rimasta pochissimo 141 Rimasto davvero Davvero bassa Sto piangendo in questo momento Allora Concentratissimi Perché in questi momenti Si possono fare le scemenze più gravi Esatto E puoi rischiare che magari Ti faccia una torre O addirittura un bel all in Quindi bisogna fare attenzione E riuscire a finire Il nostro attacco Al meglio possibile A quanto rimane con una fireball? Non lo so Non li so fare Stical Ok 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 Bravo Bravo La fireball a livelli 2 Non ce l'avevo Da una vita Sicuramente Non ricordavo minimamente quanto danno facesse a livello 2 Quindi vabbè E' andata Benissimo Ok Prima tre coroncine Altra vittoria Guarda quanti bauli abbiamo da aprire Continuiamo Continuiamo Perché bisogna salire Allora Questo è di nuovo livello 4 Come quello che abbiamo sfidato prima Ok E ha 600 trofei Oh no Guarda la carta che volevi Guarda Guarda Non posso fare nulla E non hai Non è la moschettiera Vero? No Che era l'unica che la potesse un pochettino Ma anche gli arcerotti Però non ce li avevo messi Eh lo so Lo so Lo so Aia Aia E così E' già andata la torre Sì la mongolfiera E' davvero terribile Vabbè Guarda Sì ha sbagliato Guarda Non si è difeso Non si è difeso Sinceramente L'ordata di scheletri Non mi aspettavo proprio Peccato L'avremmo distrutto altrimenti Sì Sì Vabbè Ok quindi La coso La mongolfiera E l'ordata di scheletri Ok Almeno adesso siamo un pochettino più preparati Ha sprecato un sacco di mana con questa cosa Perfetto Perfetto Ma si va ti dico Attacchi dall'altra Sì Dai Sinceramente proprio Wow 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 Stai calmo amico Vabbè adesso siamo riusciti Esatto Fermatela Fermatela Ok Ok Draghetto supera Supera la moschettiera Ok Che noiosa la valchiria Non la sopporto Non la sopporto mai Ti dirò Possiamo approfittarne bene di questa cosa Ok Ok Vabbè Pecca adesso va a picchiare il cavaliere Elisir velocissimo Elisir velocissimo Vai 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 Dai che facciamo Preparati Ora Me lo sento Me lo sento Sprecca Uh Le ho messo più sotto Accidenti Però le avevi previste bene Le avevi previste bene Facciamo questi per distrarle Perché altrimenti questi scheletrini Così potrebbero farci dei danni Sì zitti zitti Fanno un bel po' di danno Sono davvero fastidiosi Sinceramente Ok Ok La sua seconda torre è davvero messa male Quindi possiamo riuscire a buttarla Senza perdere la nostra Se giochiamo bene Sì ma lui adesso mette un'altra mongolfiera E sono cavoli nostri Vai 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 Che non muore la moschettiera Vai che non muore la moschettiera Mettiamo i goblin qua Così lo freghiamo Torre andata Andata Benissimo 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 Anche questi secondo me C'è uno spreco Non so cosa sta pensando Però l'ha totalmente buttata E in pappa In pappa Non capisce più nulla Non capisce più nulla Andiamo all'attacco Che poi in realtà Conveniva a difenderci Sì anche perché abbiamo La seconda torre Sarebbe stata pure noi Quindi sarebbe stato bello Fuori una difesa Però guarda che danni Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Siamo riusciti a battere Una mongolfiera Non l'avrebbe buttata giù Quindi perfetto Andata Ho avuto paura Perché non abbiamo Nienche edifici da mettere Ancora in questo momento Quindi abbiamo Poca roba volante Perché la moschetera Abbiamo giusto la La capanna dei goblettini Mi pare Però Capito Potremmo usare Quella degli scheletri Ma credo che non l'abbiamo Nienche trovata No Quella degli scheletri Mi sa proprio di no Vero? Ricordavo bene E vabbè È andata Loro a livello 1 Capito Se avessimo l'oro Almeno 3-4 Sarebbe già meglio Comunque in ogni caso Se iniziamo a trovarli molto Cambiamo l'oro Con l'oro E diciamo che diventa Un pochettino più fattibile Dipenderci Esatto esatto Comunque è andata bene Siamo riusciti a vingere Quindi non male Non male Allora 1 2 3 4 E questa è stata la prima Quindi 5 vittorie 0 sconfitte Benissimo Bravissimi Formidabili E niente Ragazzi Stiamo Commentando questa cosa Il giorno dopo Che abbiamo registrato il video Perché abbiamo trovato Anche il baule Supermagico Ma che fortuna Allora Tu sei una cosa incredibile Perché tutta questa fortuna Non è possibile Io ci tengo a precisare Che nella fortuna È una fortuna Perché trovare subito Il baule supermagico Vuol dire Non trovarlo Nelle arene successive E quindi un po' Te lo bruci Perché ovviamente Ti dà meno roba Rispetto alle arene alte Comunque vi mettiamo Lo screenshot Per dimostrare Che non è stato Shoppato È stata davvero Una coincidenza Io non pensavo fosse possibile Perché ricordavo Che erano scriptati Che quindi Ne trovavi uno Ogni tottempo E invece A distanza di un giorno Abbiamo trovato due baule Che arriva un baule Supermagico Non fare domande Non fare domande Apriamola e basta Prontissima Andiamo 3850 di gold Che mica male 1431 Poi diventati 3850 Ah scusami 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 Ma hai ragione Signorina Stavo sbagliando Così La carta che volevo Che bello Ti dico già Che è epiche Ne andremo a vedere 8 8 E siamo in arena 3 Cioè No vabbè Dai è una fortuna Mi dispiace Perché sfideremo Andiamo avanti Andiamo avanti Non mi piace molto Il fulmine Io odio fulmine Esatto Anche io non lo sopporto Andiamo avanti Bello Questa mi piace Mi piace solo a te Vedremo Esatto a te non piace A me piace un sacco Vedremo se utilizzarlo Secondo me si può fare Qualche deck carino Quindi sono fiduciosa E molto felice Vai 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 Faremo il deck Ferinichi Esatto Bello Sì anche il barile Questa mi piace Mi piace tantissimo 187 Credo che lo utilizzeremo Allora in poi Tu che dici Vai 4 4 4 E la witch a livello 2 Inizia a picchiare La witch a livello 2 Inizia ad essere bella Cattiva Anche questa si può combinare Per qualche deck Fighissimo Da E la lapide Così Il colpetto finale E rovini tutto così 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 Però 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 Abbiamo prince Abbiamo trovato Abbiamo trovato Lo scheletro gigante Abbiamo trovato Un'altra witch Abbiamo trovato Un sacco di cose Allora La witch La possiamo portare A livello 2 E ne abbiamo già 3 di 4 Cioè se la portiamo Al 3 In arena 3 Ragazzi Credo Che la buttiamo E vince da sola Poi voglio vedere A quanto arrivano I goblin lanceri Vai Perché Ne abbiamo trovato Davvero troppi E sono troppo curioso Comunque in tutto questo Siamo arrivati anche A livello 4 Perché continuando Ovviamente a giocare Stiamo anche salendo Di livello Quindi siamo a livello 4 Arena 3 No No vabbè Al 7 No dai Ma non li metto Cioè sono illegali Al 7 In arena 3 Ma cosa sta succedendo Ma perché abbiamo trovato Questo baule Non è possibile Ascolta Ascoltami un attimo Vediamo che mi sento in colpa Siccome facciamo schifo Con le epiche Perché davvero Facciamo schifo Adesso Io direi che i goblin Aspettiamo di salire Ancora un po' Perché mi vergognerei Di metterli a livello 7 In questa arena È una cattiveria Incredibile Direi che li conserviamo Per qualche arena Un po' più alta Cioè abbiamo già a barire Il prince e la strega Quasi a livello 3 Fantastico È davvero incredibile Beh ragazzi Non riuscire così Se non c'è Lasciateci il mio like E se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare L'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 ciao